La raccolta differenziata verrà avviata in tutta la città di Palermo. È una delle novità più importanti del nuovo progetto della RAP, presentato dal sindaco Leluco Orlando e dal nuovo amministratore unico dell'azienda Capitale Pubblico del Comune, Giuseppe Norata. Tra le altre novità c'è anche quella relativa alla creazione di otto isole ecologiche, la prima a Brancaccio, in via dei Picciotti, e la realizzazione, nella discarica di Bellolampo, della sesta vasca e poi della settima, oltre alla rimozione nell'arco di 15 giorni di tutti i rifiuti ingombranti presenti in città, che sono circa 100.000 pezzi. In via dei Picciotti, nella prima isola ecologica gestita dalla RAP, i palermitani potranno conferire tutti i rifiuti, dall'umido al secco, dagli ingombranti ai cosiddetti RAE, come per esempio PC e frigoriferi. Le altre sette isole sorgeranno invece tutte su terreni di proprietà comunale. Le isole ecologiche saranno istituite via via con ordinanza del sindaco per prevenire l'emergenza sanitaria in diversi quartieri della città, in Piazza della Pace a Borgo Vecchio, in via dell'Ermellino a Falso Miele, via Ernesto Basile, via Assoro a Borgo Nuovo, in via Lanza di Scalea, in via dell'Olimpo a Mondello, in via Leotta nel quartiere Acquasanta. La RAP punta anche a rafforzare il proprio parco mezzi. Sono in arrivo infatti 40 motocarri che saranno per strada a metà di settembre. Dobbiamo migliorare radicalmente la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ha detto il sindaco Leluc Orlando. Lo sappiamo e ai cittadini chiediamo collaborazione. Oggi siamo di fronte ad una svolta e abbiamo l'esigenza di consolidare la reputazione internazionale di Palermo, che non può essere lesa dai cumuli di rifiuti. La RAP dovrà essere sottoposta ad una profonda riforma in sede di contratto di servizio, che è ormai scadenza, e siamo convinti che la RAP è e resterà pubblica, nonostante ci siano altre opinioni da parte di qualcuno a livello regionale, e non mi riferisco all'assessore regionale e al presidente della regione, ai quali anzi faccio gli auguri e con i quali auspico collaborazione. Il nuovo amministratore unico della RAP, Giuseppe Norata, aggiunge L'obiettivo è di chiudere il 2019 con la raccolta differenziata in tutta la città ed eliminare definitivamente i cassonetti dalle strade, che sono anche ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Arrivare con il tempo al 65% sulla differenziata non abbiamo più giustificazioni. Chiusura su bello lampo deve diventare polo tecnologico e una risorsa, non deve essere un peso per la città. Abbiamo un impianto di compostaggio non utilizzato che va messo in funzione al più presto.